Dall'11 al 18 ottobre la chiesa di Lucera Troia guidata da sua eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano vibra la settimana biblica diocesana dedicata agli iscritti giovannei. Domenica 11 ottobre in ogni parrocchia ci sarà l'intronizzazione del libro della parola di dio. Domenica lunedì giovedì venerdì e sabato nel pomeriggio lexio evangelica in parrocchia cura dei parroci. Per il clero presso la parrocchia san francesco antonio fasani in zona lucera 2 alle 10 lunedì 12 ottobre introduzione agli iscritti giovannei con i padri della chiesa cura di Monsignor Carlo dell'osso martedì e mercoledì sempre alle 10 introduzione agli iscritti giovannei a cura del professor renzo infante il quale alle 18 di mercoledì in cattedrale a lucera parlerà anche agli operatori pastorali. Venerdì alle 19 politici uomini e donne di cultura imprenditori presso la chiesa santa maria delle grazie alle cammarelle dal vangelo una nuova umanità a cura di Monsignor Antonio Pitta. Domenica 18 ottobre la settimana biblica diocesana si concluderà in parrocchia. Giovedì 8 ottobre in Puglia sono stati registrati 4.754 test per l'infezione da covid-19 e sono stati registrati 248 casi positivi. 175 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. Un residente fuori regione. Sono 3.334 i casi attualmente positivi sul territorio regionale. Riguardo alla situazione del Donuva a Foggia, il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla ha spiegato che il numero complessivo delle positività registrate è di 35 ospiti e 37 operatori al momento. A Lucera si contano invece 18 casi positivi di coronavirus. Nessuno di essi si trova in condizioni preoccupanti. Dare una risposta unitaria all'esigenza di innovazione e competitività del sistema economico del Mediterraneo è l'obiettivo del Mediterranean Innovation Hub, uno strumento che unisce formazione, internazionalizzazione e open innovation per favorire l'occupazione giovanile e lo sviluppo economico del Mediterraneo attraverso l'innovazione nelle imprese e la creazione di start-up, la collaborazione tra ricerca e lavoro e l'educazione delle nuove generazioni a un approccio imprenditoriale orientato. Lab è stato presentato nel padiglione dell'innovazione della Fiera dell'Evante a Bari, in un incontro al quale hanno partecipato CEAM Bari, l'Università degli Studi Aldo Moro, Alma Cube SRL Unibo, Confindustria Puglia, Confcooperative Puglia e Lega Coop Puglia, che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione aperto alla partecipazione di altre istituzioni e organizzazioni italiane ed estere. Il Mediterranean Innovation Hub è un centro di eccellenza internazionale, internazionale perché guarda anche al Mediterraneo e all'Africa. È un centro pubblico privato perché unisce sia partner pubblici che partner privati. Ha un solo grande obiettivo, quello dell'innovazione delle imprese e quello della creazione di start-up, attraverso tre strumenti, quello della formazione dedicata all'innovazione, quello dell'Open Innovation, di collaborazione tra ricerca e impresa, quello dell'internazionalizzazione per creare collaborazione tra ragazzi italiani, pugliesi e mediterranei e tra le imprese di queste due importanti aree geografiche. Un elemento che contraddistingue questo partenariato è sicuramente la presenza non soltanto di giovani pugliesi, di giovani italiani, ma di giovani che vengono da tutto il mondo, quindi di talenti che possano in un certo senso contaminarsi e lavorare insieme per un futuro migliore, per un futuro più sostenibile, per un'innovazione che possa dare lavoro, che possa dare occupazione, che possa dare crescita e benessere, ma circoscritto a quello sviluppo economico, sociale ed ambientale di cui il nostro Paese e tutto il nostro pianeta ha decisamente bisogno. La contaminazione è certamente un tema estremamente significativo, è significativo sia per l'attività principale che noi svolgiamo, che è quella della didattica, ma anche per quello che riguarda la ricerca scientifica. Noi mischiamo saperi, mischiamo conoscenze, tendiamo a mischiare individui che vengono da posti, da origini, da background culturali, scientifici, religiosi, diversi. L'idea della contaminazione è che soddisfi e alimenti fondamentalmente l'idea della conoscenza. Per il Lucera Calcio comincia domenica l'esordio nel campionato di promozione pugliese 2020-2021, rinviata il 4 ottobre la gara della prima giornata con il Foggio in Cedit a causa di un caso positivo al Covid di un giocatore della squadra foggiana. Domenica 11 ottobre dunque alle 15.30 i Bianco Celesti ospiteranno allo stadio comunale di Lucera la Virtus Mola che ha perso in casa nello scorso turno 0-2 contro il Canosa. Si giocherà ancora senza pubblico per via della normativa dettata dall'emergenza epidemiologica. Le altre gare in programma per questa seconda giornata di campionato sono Football Club Capurso Foggia in Cedit, Atletico Acquaviva Football Acquaviva, Borgo Rosso Molfetta Donuva Calcio, Canosa Bitritto Norba, Fesca Bari Sporting Apricena e Nuova Spinazzola Rinascita Rutiglianese.